Salve unici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike 94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di uno Football Manager 2019 con il nostro mitico Milan e oggi andiamo a vedere le partite con Torino e Fiorentina Direi di andare subito a bomba a vedere la prima partita che giochiamo praticamente con la titolarissima Torna a giocare da titolare Paquetà, però ragazzi il Torino è allenato da forse il miglior allenatore al mondo E quindi sarà una partita veramente veramente ostica, ovviamente sto parlando di Walter Mazzari Che comunque sia nella realtà che anche nel gioco sta facendo veramente molto bene Infatti il Torino è sesto se non sbaglio addirittura sopra il Napoli, quindi a parte gli scherzi sta facendo veramente bene E quindi speriamo bene anche perché abbiamo vinto tantissimo Non mi aspettavo sinceramente così tante vittorie, soprattutto contro Juve e Roma Però ovviamente facendo i dovuti scongiuri questo filotto prima o poi finirà Non so quando, spero non subito ovviamente Intanto Zapata, voglio dire, sta giocando titolarissimo nel Torino Io infatti sto quasi pensando di rinnovargli il contratto perché non vorrei che poi il Torino zitto zitto ci frega e se lo prenda a zero Non so se sarà possibile perché comunque avendo loro il diritto di riscatto Non credo che nessun'altra squadra possa offrirgli un contratto perché non credo che sia Intanto arriva il gol di Giacomino Bonaventura Non credo che sia tanto legale come cosa perché se ovviamente il Torino può riscattarlo Altre squadre non possono prevalere questo diritto del Torino Quindi ora non so se il Torino è l'unica squadra che gli può offrire un ingaggio a zero oppure no Però insomma noi vediamo, valutiamo le nostre cose perché se comunque Zapata non ci chiede troppo Possiamo rinnovargli il contratto e poi sperare che il Torino lo riscatti Perché comunque mi pare che il diritto di riscatto non era nemmeno male Era tipo di 3 milioni o una cosa del genere Perché Zapata quando stava da noi valeva quasi sui 4, 4 e qualcosa Quindi non era neanche bassissimo Ovviamente non stiamo parlando di cifre astronomiche, 100 milioni di miliardi Però comunque anche se sono 3 milioni ci fanno comodo, non fanno schifo Soprattutto per un giocatore che è in scadenza, è un giocatore che da noi in Dio potrebbe fare il quarto difensore centrale Però con Musacchio, Lenglet, Romagnoli e Caldara non troverebbe mai spazio Anche perché avendo una certa, avendo 32 anni da poco compiuti Sicuramente prima o poi avrà un calo Fisicamente ben messo, è un ottimo difensore Però credo che prima o poi un calo, un piccolo calo ce l'avrà Vuoi vedere Strinic come sta? Sta sempre con queste freccine arancioni Quindi non so, non so Sto pensando perché già comunque nel prossimo episodio parleremo di mercato Mercato in uscita, quindi già sto un po' riflettendo su varie possibilità Già sapete più o meno una cessione obbligatoria che è quella di Borini Perché comunque se lo riuscissimo a vendere veramente a 10 milioni sarebbe un miracolo Ma ripeto anche 7, 8 sarebbero tantissimi soldi Che potremmo sfruttare più i soldi che ci abbiamo Che comunque sono parecchi Perché avendo preso tutti i giocatori in prestito Abbiamo credo anche più di 70 milioni fra budget in gadget e budget trasferimenti E quindi un bel colpo importante può venirci Non li ho ancora fatti perché Minchia stavamo rischiando Perché la PID del Milan ovviamente è superiore a quello del Lecce Però non è così alto da permetterci colpi alla Cristiano Ronaldo O anche alla Cavani insomma Non possiamo ancora prendere questi giocatori così importanti Spero di riuscirci prima o poi Perché portare un top player con la T e la P maiuscola Mi farebbe veramente piacere Non che Chan e OneMata siano scarsi Sono due ottimi giocatori Chan è giovane e forte Ha ancora di belle speranze Può crescere ancora parecchio Mata ha fatto il suo Sta ancora dando una grande mano ovviamente Quindi sono contento di tutti e due Anzi proprio lo metto adesso Mata E Chan invece l'ho tolto perché stanco Mettiamo pure Castiglieco Non è che mi abbia convinto più di tanto Non è che abbia fatto chissà che cosa Ma pure Suso non è che sta giocando la stagione della vita Sono dei giocatori comunque molto funzionali Che loro lo fanno Danno una mano alla squadra Sia come assist eccetera Intanto il Torino sta attaccando con Ansaldi Ansaldi tiene palla Ansaldi fermiamolo per favore Qua il Torino sta attaccando in toto Sirigu Sirigu la passa in avanti C'è Mata Contropiede del Milan Viene fermato da Izzo La difesa a tre comunque è valida Noi abbiamo trovato il gol Però loro sono validi Sono forti C'è De Silvestri De Silvestri sulla destra Nooo Perché rischiare sta espulsione Che si Ma sei proprio uno stolto Che Cavolo che si Potevi evitare sta stronzata Vabbè Facciamo così Mettiamo Cutrone qua Se me lo fa mettere Possibilmente E mettiamo Lasciamolo così In teoria potremmo mettere No vabbè lasciamo Mamma Sinceramente Mata esterno Non si può vedere Lasciamo così Non che possa fare molto Il regista arretrato Però Purtroppo io già I tre cambi l'ho fatta Adesso il Torino Cercherà il tutto per tutto Rodriguez C'è Metè Metè La passa dall'altra parte Ansaldi Ansaldi Fa scorrere il pallone Ansaldi per Baselli Baselli per Metè Arriva il gol del pareggio Diciamo Anche quasi meritato Perché non è che abbiamo Giocato granché Bene Abbiamo trovato il gol Ma poi nulla Poi giocando con uno in meno Ci sta ovviamente Ragazzi pareggiamo Un po' mi dispiace Che stiamo al San Siro Però Ci può stare Intanto c'è Giacomino Bonaventura Cross al centro Castiglieco Sfiora il gol Sfiora il gol Peccato Peccato perché Sarebbe stata una bella Zampata Ma mi sa che Oramai la partita È quasi finita Mancano tre minuti Mi spiace parecchio Per il pareggio Però Però ci può stare Non ci possiamo Assolutamente Lamentare C'è in culula Passa a Baselli Baselli per Rincon Baselli Metè Stava rischiando Di fare la doppietta Per fortuna Non è così Non una bella partita Devo dire la verità In questo caso Voglio dirla Alla squadra Non mi è piaciuto Come hanno giocato Stava facendo Tante cose Dopo il pareggio Contro il Torino Abbiamo vinto 1-0 Con il Frosinone Gol di Can 5-0 Contro il Bade Musacchio Ciannoglu Paketa Bacayoko 3-0 Contro il Bologna E 4-0 Contro l'Udinese Ragazzi Questa tattica È veramente Micidiale Così come Anche la squadra Veramente Stiamo distruggendo Le squadre Ma anche il campionato Stiamo facendo Veramente Grandissime prestazioni Speriamo di ripeterci Anche oggi Contro la Fiorentina Giochiamo con La titolarissima La cosa strana Alla fine Un po' Lo temevo È che facendo giocare Spesso anche le riserve I titolari Poi si lamentano Infatti Ciannoglu Ha chiesto Di giocare di più Ovviamente Gli ho promesso Di dargli più spazio Alla fine Pensavo di Averlo già fatto Giocare abbastanza Però vabbè Adesso lo metteremo Un po' più spesso Titolare Ho alternato molto Lui, Mata, Paketa Però vabbè Lo faremo giocare Un po' di più Muriel sta giocando Abbastanza bene In questo campionato Vabbè Chiesa Lo conosciamo La Fiorentina Comunque È una bella squadra Proprio per questo Voglio farvi vedere Questa partita Poi ripeto Nel prossimo episodio Ci concentreremo Con il mercato Con il mercato In uscita Soprattutto Intanto qui Cutrone Sbaglia Solo una cosa Perché Ultimamente Stiamo vendendo Un botto di azioni A volte anche inutili E non volevo Che si fossero Cambiate Determinate Impostazioni Invece no È così Dura Dura parecchio Volevo rendere Leggermente più veloce Ecco questo Intanto c'è Jack Buonaventura 1-0 Bene così 1-0 Bello il gol Scusate Mi sono un attimo Distratto Per modificare Alcune impostazioni E non abbiamo visto Proprio in live Live il gol Di Buonaventura Tassis di Cialanoglu Bello qui il tiro Ingeno alla difesa Della Fiorentina Che ha lasciato Veramente Da solo Il nostro buon Jack Che segna Veramente come un matto Ripeto Il nostro Goleador Fa un sacco di gole E sono molto Molto contento Per lui Intanto ancora il turco Cialanoglu Sfiora il gol Del 2-0 Stiamo giocando Veramente bene Come sempre Un po' ci mangiamo Troppi gol Abbiamo fatto già 8 tiri 3 in porta La Fiorentina Praticamente Non è ancora scesa In campo Questo modulo È molto offensivo Però è molto valido Anche in difesa Non lasciamo giocare Le squadre avversarie Infatti Comunque Ciannec Si danno Una grande mano Per questo Ho voluto fortemente Il giocatore Della Juventus Perché È molto valido Sia palla al piede Ma anche Molto valido In difesa E questa è la cosa Che conta Considerando che Giochiamo solamente A due A centrocampo Comunque Due arretrati Ecco E quindi Ci sta dando Veramente una grande mano Così come che sì Forse Cianne In fase offensiva Non fa tantissimo Ma insomma Non può farlo Ecco Anche perché Il regista arretrato Difensivo È quasi Non dico un incontrista Ma è un incontrista Che deve impostare Che Ciannec Anche Deve Ovviamente Difendere Però in quel caso Attacca anche Il centrocampo In queste quantità Abbiamo visto che Molto spesso Trova la via Della rete E sia lui Che Bacaiocco Lo fanno spesso E anche molto bene Intanto qui speriamo Un errore Della Fiorentina Purtroppo non arriva Pensavo a un paperone Di La Fonte Invece no Bello il passaggio Per Muriel Però per fortuna Abbiamo Donnarumma Poi il tiro è abbastanza Centrale È anche brutto Buon per noi Già abbiamo visto Prima il pareggio Col Torino Non vorrei vederne un altro Facciamo I dovuti scoggiuli Sinceramente Dove andiamo di più Alla squadra Perché La Fiorentina È scesa bene In questo secondo tempo Per fortuna Adesso loro Beccano un sacco Di cartellini gialli Vorrei togliere Forse c'ha la Noglu E mettere Paketà In teoria anche Guammata Ma mettiamo Paketà Dai Se il gioco Me lo fa mettere Mettiamo Paketà Strinic pure Non è che lo sto facendo Giocare più di tanto Ma su di lui Sono abbastanza dubbioso Potremmo Pensare di venderlo Anche perché Sta ancora Tutto in calo C'è Susino Susino Ancora la Fonte Bella la parata Per la seconda volta La calci punizione Stavamo rischiando Di segnare O meglio Stavamo Facendo due bei gol Ma purtroppo Nel primo caso Abbiamo sfidato il palo In questo caso È stato bravissimo Il giovane portiere Della Fiorentina C'è Rodriguez Che sbaglia la rimessa Con le mani Ma c'è Can Che stoppa sul nascere L'attacco della squadra Toscana C'è Paquetà C'è Buonaventura Viene fermato Mannaggia a te C'è Dabo Dabo La passa L'altro giocatore La Fiorentina C'è Piazza Piazza Fernandez Ciampa Tipo Paquetà Ancora la Fiorentina Paquetà Non riesce a prendere il pallone Bravo Ho qui conti a anticipare Passaggio nella terra Di nessuno Di Suso Dai Suso Un po' più di concretezza C'è Paquetà Paquetà 2-0 Settima rete stagionale Del grandissimo Lucas Paquetà Bello il gol Di sinistro Spiazzato completamente Il portiere Sono contento Per lui Anche di Suso Che ha fatto l'assist Pensavo che li tirasse Invece no Ma bellissimo Il gol di Paquetà Non me l'aspettavo Pensavo che la Andasse fuori Invece Stato pure preciso Complimenti veramente E la squadra Che è forte Cioè ragazzi I giocatori già di base Nella realtà Sono un po' Meno forti Rispetto al gioco Poi vabbè Nella realtà Bisogna valutare Molte cose Lo spogliatoio L'allenatore Il clima Che si va a creare Cali di forma fisica Che in questo FM 2019 Non ho granché notato Neanche con Lecce Sinceramente Quindi Sono cose Cose diverse Alla fine Anche Iguain Purtroppo Mi sa che Non si è trovato Tanto bene Anche Questo sicuramente Ha influito Nel In ciò che ha fatto Non che ha fatto Malissimo Però da un giocatore Come lui Ci si aspettava Molto molto di più E' stato sostituito Da Piontech Che ha fatto un inizio Veramente incredibile Cioè In poche partite Ha già fatto I gol Che ha fatto Iguain In tutti e sei mesi Buon per lui Sono molto molto contento Come sono anche Molto molto contento Questo Milan Che non si ferma Non si ferma Abbiamo fatto un partitone Incredibile E sono veramente Molto molto contento Detto ciò ragazzi Come sempre Lasciate like Spero che ovviamente Il video vi sia piaciuto Commentate Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Grazie per tutto quello che fate E come sempre Un saluto da Mike94 E ovviamente anche da Football Manager Italia Ciao ragazzi